Allora questo è l'olta abbattita, questo ci fa il mezzo barcaiolo qui, l'olta abbattita c'è già, questo ci fa il mezzo barcaiolo, questa la lascio, questo qui in mezzo barcaiolo faccio questo, ok questo, su questa qui, corda di calata, all'esterno, io voglio la corda di manovra a favore mio, faccio un occhellino così, infilo dentro, questo è già bello e mezzo barcaiolo, in posizione di calata, questa è la corda che mi rimane, metto dentro, metto dentro, con questa rientro dentro, perfetto, qui chiudo, fai asola e faccio asola, qui mi do corda, faccio un'asola, sempre il pollice verso, così e qua si vieni, ok, sono qui, a questo punto te sei pronto, io sono pronto, che cosa fai a questo punto lì, mi sposto, faccio vedere i miei amici, allora il mezzo barcaiolo, il mezzo barcaiolo, lo attacchiamo qui, questo, perché tanto poi questo piccolo non tira bene via tutto, e qui ci attacchi anche lo zaino, ok, recuperi il sas e va via, scendi, perché è questo, e che quando arrivi in fondo, una corda di calata è la stessa che è questa, la tiri e sveicoli tutto, ok? Preparazione, vai! Ok. Ciao